ciao a tutti eccoci qui tornati a una nuova puntata di chiacchiere tra prof ciao adele marilena e c'è tutti i nostri amici che ci seguono ben trovati stavolta argomento nuovo amare anche un po metto nuovo e anche molto interessante di attualità molto interessante esattamente vedo più sono in un altro universo sì così esploriamo nuovi orizzonti assolutamente li facciamo uno strumento che a noi piace tantissimo ci diverte con diverte i nostri ragazzi coinvolge i nostri ragazzi io quest'anno in questi ultimi anni ci ho lavorato tantissimo con i ragazzi e con questo bellissimo strumento che è class vr che ho avuto la fortuna di avere grazie alla persona che adesso vi presenterò perché sono uno degli ambassador insomma italiani di class vr e grazie insomma al nostro ospite abbiamo potuto iniziare a lavorare prima di poi di tante altre persone con i visori in classe con i nostri ragazzi ma senza indugio adele chi invitiamo sentiamo lucia ciao ciao amici che ci ascoltano come state bene bene benissimo sempre con la grinta no che ci contraddistingue nel portare delle novità nelle nelle idee dei nostri colleghi allora lucia io sono felicissima così come adele siamo felicissime di averti qui perché intanto tu oggi qui sei in una veste ufficiale nuova che è quella del primo country manager italiano del visore quindi della piattaforma del visore class vr quindi grazie per aver accolto il nostro invito e siamo veramente felici di averti come country manager italiano grazie a voi per l'invito è un onore è un estremo piacere essere qui con con voi come detto tu correttamente sì questa è la veste che attualmente sto ricoprendo con grande piacere e quindi insomma ho tante tante novità di cui poter parlare con voi e sono molto felice di poterlo fare in esclusiva qui da voi ma ma che onore in esclusiva in chiacchiere tra prof questo è veramente bellissimo grazie e poi c'è un'altra cosa da dire grazie a lei insomma che ha creduto nel potere divulgativo di coinvolgimento dei docenti ha creato un programma ambassador e quindi grazie a lei insomma in Italia quanti siamo hai detto l'altro giorno 26? siamo 26 sì 26 ambassador italiani di class vr con entusiasmo insomma hanno portato nelle classi questa tecnologia immersiva che ci permette veramente di coinvolgere i nostri ragazzi a 360 gradi e anche creare attività didattiche inclusive oltre che coinvolgenti ed immersive per cui ci sono anche attività all'interno della piattaforma proprio per l'inclusione quindi siamo veramente contenti di lavorare con questo strumento e non è soltanto visore in realtà virtuale ma all'interno anche realtà aumentata quindi è uno strumento veramente completo però noi oggi siamo veramente curiosi di sapere le novità perché intanto presentiamo class vr e dopo faremo vedere la piattaforma e sicuramente ce ne parlerà insomma Lucia nella piattaforma vi farò vedere delle attività delle attività didattiche e soprattutto siamo curiosi di conoscere le novità ne hai tante tante che puoi dire forse tante che non potrei dire però insomma intanto ci metti un po' di curiosità assolutamente sì beh intanto presento giustamente class vr class vr è un brand prodotto da un'azienda che si chiama avantis education e che ha portato alla realtà virtuale aumentata in mista come giustamente stavi dicendo tu nelle scuole di tutto il mondo perché class vr non è una realtà esclusiva italiana ma è una realtà che abbraccia tutto il globo ormai siamo in oltre 90 paesi al mondo per la precisione siamo in 92 paesi al mondo inclusa l'italia quindi siamo una bellissima famiglia di scuole di classi studenti e docenti che utilizzano regolarmente class vr nelle loro nel loro strutture insomma nei loro momenti didattici di novità ce ne sono diverse ora ovviamente alcune come dicevi tu marilena posso dirle e altre purtroppo non ancora dovrò mordermi la lingua dimmi tu quando posso iniziare a dire alcune delle novità seguo te partiamo subito con le prime le prime novità intanto se vuoi presento il insomma il sito no di class di class vr eccolo qui dove all'interno troviamo le varie attività insomma che normalmente si fanno in class quindi come utilizzarlo gli obiettivi di apprendimento e quindi insomma una piattaforma quindi un sito dove all'interno abbiamo tante cose da scoprire se non conosciamo class vr quindi realtà mista virtuale realtà realtà aumentata e poi la spiegazione di come sono fatti i visori che è questo che vedete qui anche nelle mie mani è un visore dopo chiederò a Lucia un'informazione molto importante sui visori però vedete che hanno una telecamera qui non per riprendere ma per aprire alla realtà insomma quindi al contesto proprio per inquadrare i QR code che servono insomma per diverse operazioni quindi come vedete ecco è formato da hardware software contenuto didattico e tante tante altre cose all'interno e contenuti di realtà virtuale realtà aumentata si trovano qui spiegati adesso poi ve li faremo vedere nel nel portale quindi ci sono tantissime risorse per ogni materia con tantissimo materiale tante novità che adesso ci dirà per quanto riguarda il curriculum italiano e tante altre cose quindi partiamo dalla dalle ultime novità che abbiamo in casa class vr proprio le ultimissime le più recenti guarda questa notizia è del 9 di settembre quindi proprio super recentissimissima direi di qualche giorno fa finalmente siamo andati online e quindi anche tutti e tutte le scuole che hanno già la piattaforma l'avranno visto l'avranno notato se non l'hanno notato invito a farlo ad andare a controllare nella libreria tra le librerie del portale class r è compasso un pulsante che quello legato come stai facendo giustamente vedere tu al curriculum italiano class r che cosa deciso di fare di selezionare in una specifica libreria tutti i contenuti che sappiamo essere coerenti con i curricula italiani per cui ha fatto una prima suddivisione come stai facendo giustamente vedere tu grazie a marilena sei straordinaria davvero con il monitor appunto ci sono c'è una prima suddivisione che quella per materie ovviamente sono le materie principali e poi all'interno se si clicca in una di queste card si trova una ulteriore suddivisione che è quella dei gradi insomma a seconda del grado di scuola allora si va a scegliere una card piuttosto che un'altra ogni card corrisponde ad una playlist o più playlist come in questo caso e nello specifico marilena hai beccato proprio una playlist che è la seconda novità abbiamo implementato una serie di contenuti che riguardano nello specifico la lingua italiana lingua italiana e specialmente tutta quella quella fascia di contenuti che è particolarmente interessante per la scuola primaria e quindi che vanno dalla grammatica anche ad argomenti di letteratura ovviamente coerente con coerenti con l'età dei nostri bambini e che in qualche altra situazione come ad esempio l'apprendimento della lingua 2 è risultato essere molto utile quindi tendenzialmente ci andiamo è vero che si parla di scuola primaria ma a seconda delle dei contesti in cui li possiamo utilizzare con l'apprendimento di una lingua è trasversale nel senso che si parla sempre di stesse regole grammaticali e nel caso della lingua 2 insomma un approccio morbido è sicuramente più suggerito ecco maggiormente suggerito e questi contenuti risultano essere anche molto interessanti per quest'altro e divertenti dopo andremo a vederli perché per esempio si parla del punte virgola dei due punti ma in un approccio molto cartoon quindi anche molto coinvolgente per i bimbi piccoli perché stiamo parlando insomma della primaria, della prima, della seconda elementare per cui l'approccio deve essere ludico che questo approccio ludico torna utile anche per gli studenti non italofoni che anche se sono io insegno alle superiori anche se sono un po' grandini si trovano totalmente spaisati nel non comprendere quella che è la nostra lingua e quindi cominciare con un approccio ludico è sempre anche molto interessante io vedo le meraviglie della piattaforma perché a scuola da me i visori sono arrivati da poco quindi dobbiamo adesso fare tutti gli abbinamenti visore, rete, aggiungerlo appunto al portale per avviare poi tutti gli altri insegnanti all'utilizzo del visore quindi per me è ancora tutto nella fase di meraviglia e di scoperta ora che ci sto un po' smanettando su e questo è l'effetto l'effetto che fa Classware è proprio questo, un effetto di meraviglia anche ai miei colleghi insomma che hanno cominciato a capire come funzionano i visori e la piattaforma sono rimasti tutti sorpresi proprio dalla qualità dei contenuti sì Lucia perché tu dicevi state lavorando molto sulla qualità dei contenuti e devo dire che è un plus che piace molto insomma ai docenti beh sì oltre alla tecnologia insomma da benissimo la parte fisica adesso mi permetto di dire una cosa che dico regolarmente a tutti i docenti con i quali mi relaziono ma anche gli stessi partner che abbiamo sul territorio nazionale che sono tantissimi sono più di duecentocinquanta quindi copriamo praticamente tutta Italia insomma al di là della questione fisica dell'aspetto fisico del visore quando andiamo ad applicare una tecnologia in classe bisogna capire perché la stiamo applicando bisogna dirci, farci la domanda qual è il mio obiettivo, cioè che cosa voglio fare una contestualizzazione esatto, esatto, contestualizzarlo Casuere questa domanda se l'è fatta all'inizio prima di partire per questo bellissimo viaggio quindi nel 2017 se l'è proprio chiesto cioè che cosa voglio fare, qual è la mia visione la visione era proprio quella di creare un mondo di apprendimento dove l'impossibile potesse diventare possibile nella maniera più semplice possibile mi ripeto con il possibile vedi e ritorna questa parola e soprattutto che potesse in qualche modo davvero fare la differenza ecco perché la parte dei contenuti è essenziale perché è l'elemento che davvero trasforma un insieme di plastica e di elementi, componenti insomma tecnologici in uno strumento didattico sì e questo è importante perché è l'unico strumento che ha al suo interno cioè nasce proprio in combo con una piattaforma e che non è aperto all'esterno questa è una grande insomma una grande sicurezza per i docenti che sono sicuri nell'usare lo strumento e la piattaforma perché è gestito e tutto regolato dal docente stesso senza la possibilità che l'alunno anche quelli più grandi che sono un pochino più esperti non hanno la possibilità di uscire all'esterno e quindi non possono andare insomma in giro nella rete perché è tutto invece veicolato da questa piattaforma dalla piattaforma gestita dal docente quindi è un ambiente di apprendimento sicuro e controllato dalla mano e dalla didattica insomma dall'obiettivo didattico del docente questo è stata devo dire la motivazione che mi ha spinto a sceglierli anche per la mia scuola proprio per la finalità insomma didattica e il controllo da parte del docente Anch'io per la stessa motivazione perché tra l'altro il docente ha modo di vedere al pc sulla console appunto di Glassware quello che vede anche il ragazzo in condivisione quindi anche se non abbiamo un visore per ogni studente perché poi spesso la domanda che viene fatta ma se io ho 25 studenti ho una valigetta di 8 visori come faccio? c'è comunque la possibilità di condividere quello che viene visto attraverso comunque quella che è la digital board piuttosto che il pc della classe e quindi si può lavorare anche in quella modalità lì Sì esatto e tra le altre cose aggiungo una delle novità e non è proprio recentissima ma qualcuno può non aver ancora guardato a questa nuova applicazione tecnologica abbiamo deciso di adottare l'eduverso quindi il metaverso educativo Che è questa sezione qui, vero? Sì esatto è proprio ediversity e poi è ancora più semplice in realtà fare in modo che una volta selezionati i contenuti prima Marilena sei stata veramente in maniera molto fluida hai preso un contenuto l'hai spostato nell'elenco di riproduzione facendo esattamente vedere che cosa accade cosa c'è di estremamente complicato nella selezione di un contenuto Succede che a un certo punto quando si va a fare una riproduzione del contenuto così come hai fatto tu quindi hai praticamente cliccato su uno di quegli elenchi di quei rettangolini in elenco di riproduzione si può decidere di entrare in eduverso e tu ci sei già in realtà perché sotto l'elenco di riproduzione c'è proprio un'iconcina con tre omini Allora adesso facciamo vedere come trascino la risorsa prima l'ho fatta in silenzio Anatomia della Luna e viene trasportata qui nell'elenco di riproduzione questa è già una playlist che io avevo preparato precedentemente per farla vedere mettendo un po' di materiale diverso un ghetto ebraico il Rosa Parks presi da Avantis World che è l'altra risorsa presente all'interno poi un cuore umano che è l'elemento invece in realtà aumentata che possiamo vedere anche attraverso un merge cube oppure semplicemente proiettandolo nella realtà e poi un'immagine a 360 gradi questa caricata nel cloud perché ci sono delle novità anche nel cloud si è aperta anche qualche altra novità nel cloud Lucia? Beh sì ci sono stati tantissimi altri contenuti che sono stati aggiunti all'interno del cloud diciamo che la struttura è quella che consente e fin dall'inizio è sempre stata così pensata per questo quindi per una flessibilità d'uso all'interno della scuola quindi pensate di non dover scaricare niente in locale classica cosa poi diventa diventa problematico dover bloccare prenotare quel pc sul quale è installato quello specifico software è stata studiata in maniera che potesse essere accessibile a tutti in maniera contemporanea e all'interno delle librerie che fanno parte una parte è quella che diceva Adele giustamente dicevi anche tu Marilena un controllo centralizzato dei dispositivi e di quello che è l'attività didattica però ho bisogno anche dei contenuti ed è di quello di cui stiamo parlando proprio ora ho bisogno di librerie si è ampliata questa libreria ultimamente quindi adesso c'è una ulteriore sezione al di là di quella del curriculum italiano che si chiama Eduverse 360 e che porta oltre 300.000 video e immagini 360 esplorabili non solo individualmente quindi ogni cosa che è 360 dobbiamo immaginarci che è visibile con me al centro dello scenario che sia ovviamente un video che sia un'immagine con Eduverse 360 non solo è possibile ad esempio guardare una veduta su Parigi da soli ma se il docente vuole lo si può guardare insieme a tutta la classe quindi aprendo quello che dico io il varco nell'Eduverse quindi non c'è un solo click perché con Classware non c'è niente di più complicato se non facendo un click vero facendo un click si entra in tutti insieme e si vedono tanti omini all'interno che interagiscono e si muovono è un'esperienza questa parte qui del 360 a me è piaciuta subito perché da docente di storia dell'arte effettivamente tutto totalmente immersivo quindi si può esplorare un luogo in una maniera pregnante cioè effettivamente anche se non si è lì si ha la percezione proprio di vivere quel luogo e quindi è veramente interessante quell'aspetto lì e poi ci sono anche librerie belle se trovate qualcosa qui nel 360 potete caricarvi immagini a 360 nel My Cloud come ho fatto io che ho caricato l'immagine del Colosseo a 360 se non avete una fotocamera a 360 che fa le foto potete prenderle direttamente da Google non potevamo non citare Google nella nostra nella nostra chiacchiera tra prof perché direttamente da Google Maps attraverso un applicativo sempre di Google possiamo scaricare immagini a 360 e utilizzarli nelle nostre attività immersive e le possiamo inserire qui quindi docenti di storia dell'arte o docenti di geografia che vogliono esplorare dei luoghi e non li trovano nelle tantissime foto già messe a disposizione appunto di Eduverse 360 possono caricarle e fare l'esperienza immersiva anche con il MyCloud insomma Lucia bene sì assolutamente tutto perfetto come potrebbe non essere perfetto Marilena come potrebbe non essere perfetto guarda peccato che non mi sono fatta un caffè perché adesso ci stava proprio benissimo stava proprio benissimo perché sta diventando sempre più come dire davvero una chiacchierata super super tra amiche ecco possiamo dirlo è vero brava brava ma sai di fatto stiamo mostrando quello che normalmente si dovrebbe fare no? cioè tra docenti tra persone si decidono un po' quelli che sono gli obiettivi cosa mettiamo cosa non mettiamo scertiamo dalla libreria ho trovato qualcosa ci aggiungo l'altro lo sposto nell'elenco di riproduzione e poi lo mando ai ragazzi quindi state vedendo con che semplicità insomma si fa questo ciclo in una chiacchierata insomma in una chiacchierata sì assolutamente infatti Adele appunto dicevi prima la questione della solo per per dare una risposta perché altrimenti sembra che l'abbia data a metà quando tu dicevi giustamente ho otto visori in classe ho 25 studenti come faccio? giustamente puoi far vedere quello che avviene sui dispositivi singoli tramite semplicemente il monitor interattivo ormai ce l'abbiamo tutti quindi in classe con il portale ma con l'eduverso si può anche far entrare con altri dispositivi quindi con uno smartphone o con un tablet altri ragazzi ma anche con un semplice altro laptop pensiamo con un altro computer tramite una condivisione di link si può riportare tutta la classe sempre nel medesimo ambiente quindi nella medesima scena lo facciamo vedere lo facciamo vedere questo Lucia che dici? come no assolutamente allora vado in consegna vediamo questo panorama non so che luogo ho preso se si clicca qui in basso invece che l'omino singolo diventa una moltitudine di omini comparirà un link di riproduzione cliccando qui sotto al link di riproduzione entriamo nell'eduverso e possiamo farlo vedere come diceva Lucia direttamente dentro il nostro monitor e qui c'è già il join room e oppure possiamo insomma trasportarlo in un altro in un altro device e qui loro possono entrare perché qui dentro è qui giusto Lucia abbiamo la possibilità di invitarli con il link e il QR code e quindi se ne vanno il visore entrano con il proprio device e anzi entra Adele col telefono ma sì Adele facciamoci una una passeggiata ma facciamo facciamo una piccola visita ci vado anch'io e vediamo dove siamo però ecco non so dove ci troviamo Adele facci la cicerone tolgo l'audio perché ti sento Mari ah ok sì ti sente anche quindi si può fare l'esperienza io chiudo il mio microfono facciamo così ok Marilena fammi rivedere il codice che non ho fatto in tempo non sono stata tempestiva ecco Tim grazie mille io ci sono in effetti eccola tu sei il gorilla Adele sei il gorilla può essere lei è Adele perché ti stai guardando di là infatti adesso mi gira e Tim Woodpeaker invece è Lucia dove la trovo Lucia dove sei eccola no aspetta questa sono io perché io sono davanti al colonnato ah sei tu io sono davanti a Lucia questa sei quindi Lucia allora dai Lucia vieni verso di me vieni verso il colonnato aspetta che arrivo infatti sto vedendo Lucia che sta arrivando cioè Tini eccola Lucia ecco vedo l'omino grigio sono io sono io bello è una bellissima insomma esperienza che adesso noi ci stiamo divertendo insieme a voi ecco qui ho qui davanti Lucia sei davanti a me sì sì sono io sono io bello e possiamo pure fare una foto qui c'è la possibilità di scattare una foto ho fatto la foto a Lucia mi do una curiosità la racconto qua quando ho avuto il piacere di fare delle sessioni di formazione proprio specifiche per alcune classi per alcuni gradi di scuola io a un certo punto alla fine della sessione di formazione chiedevo vogliamo fare una foto di gruppo perché sai è un percorso molto bello tutti quanti entusiasti facciamoci una foto di gruppo e chiedevo a loro dove volete fare la foto cioè sceglietevi un'ambientazione non ci crederete mai ma cento su cento mi chiedevano di fare la fotografia davanti alla terra cento su cento era una cosa incredibile perché sono delle cose che non riesciresti a fare normalmente esatto è l'impottibile che diventa possibile no? come hai detto te esatto correttamente esatto era quello l'obiettivo diciamo che in quelle situazioni si è reso come dire chiaro che insomma è stato centrato e appunto grazie alla possibilità insomma quel tastino magico per cui si può fare una fotografia mi sembrava molto semplice poi loro non lo vedevano quindi mi chiedevano ma come hai fatto a fare la fotografia? un click basta un click come ogni foto del resto allora vediamo qualche altra cosa qualche altra curiosità per esempio questo è molto interessante per educazione civica entriamo all'interno degli ambienti di Rosa Parks e qui con il visore e il joystick perché ogni visore poi ha anche il joystick per muoversi all'interno e abbiamo la possibilità di entrare negli ambienti in questo caso nel pullman dove era seduta appunto Rosa Parks e muoverci nelle varie aree per esempio anche nel Memorial che è a Washington che è dove c'è eccolo qui è arrivato questo è e lei è seduta all'interno e adesso non vi faccio insomma entrare dappertutto ma vi faccio andare in quel puntino lì che è un portale quindi si passa da una scena all'altra e questo portale ti trasporta ovviamente nel Memoriale a Washington aspettate che ho bloccato il mouse è il classico effetto spazio-temporale no? sì siamo all'interno di un ambiente lontano nello spazio e nel tempo e nello stesso ambiente si è bloccato ho provo a entrare ti vediamo ti vediamo mi vedete che sono entrata nell'autobus eccoci qui dovrebbe essere qua eccoci avviciniamo è lì è lì e qui c'è Rosa Parks eccola qui seduta nel suo posto insomma sull'autobus e poi di qua riscendiamo c'è l'altra porta ovviamente con il joystick è più semplice che con la testiera del computer però sì perché hai ragione io non l'avevo menzionato ma in effetti insieme al visore insomma c'è anche quello che viene chiamato joystick controller insomma un po' come siamo abituati a chiamarlo ma insomma non cambia la differenza cioè non fa nessuna differenza non cambia la sostanza ovviamente quello ci aiuta a muoverci in maniera molto più fluida entro nel portale vai 3, 2, 1 vai siamo praticamente si arriverà arriverà sono adesso in quel spazio temporale tra un diverso e l'altro eccoci sono arrivati sono in tre secondi siamo dove eccoci qui siamo ad una manifestazione sui diritti umani ecco qui Martin Luther King e c'è anche l'audio di sottofondo che voi non sentite dei manifestanti si provate l'idea ritorno vediamo rientro qui ritorno da Rosa Parks e vi faccio vedere l'altro portale e quindi vedete che tutto questo è fattibile adesso lo vedete a monitor ma i ragazzi ci sono dentro con il visore e quindi automaticamente posizionandosi con il joystick di fronte al portale andando incontro al portale si sentiranno proprio trasportati nella dimensione si tenete conto che ci sono sempre effetti di audio che noi ovviamente adesso non sentiamo ma che rendono il tutto ancora più coinvolgente anche quando voi accendete i visori che si devono fare delle prove anche con gli occhi per muoversi scegliere i QR eccetera e selezionare le cose voi avete proprio quella percezione di movimento e qui c'è il famoso discorso di Martin Luther King e questo è dietro qui siamo al Memorial a Washington e qui c'è la famosa di di scene per cui man mano che si va avanti ci si può ritrovare senza saperlo all'interno di un di un percorso a matrioska qui per esempio c'è una fotografia e quando qui entraremo l'effetto audio sicuramente mi rilaccia a quello che diceva Dele è intanto in questo momento è un po' complicato farlo anche perché dobbiamo sentirci noi al cemento è molto complicato per far capire alle persone che c'è anche quell'ulteriore elemento in più per il discorso immersivo esatto perché insomma è una questione di stimolazione multisensoriale alla fine che ti fa completamente immergere all'interno di un altro di un'altra dimensione infatti è proprio questo apprendimento immersivo vuol dire apprendere con tutti i sensi e quindi entrare all'interno di un ambiente e assaporare tutto ciò che c'è all'interno come se fosse reale ecco questa immagine per esempio sempre a Washington è il monumento di Martin Luther King io qui sotto ho fatto una foto l'anno scorso è veramente emozionante vedere questo è enorme ed è veramente da emozione questo luogo e devo dire la verità eccoci qui abbiamo fatto un viaggio nei diritti perché questa è un'attività di educazione civica e quindi un viaggio dei diritti poi io avevo selezionato il muro di Berlino l'Italia al fascismo il cuore ecco questo è il cuore umano che in realtà aumentata lo possiamo proiettare ovviamente nel nostro ambiente nella classe insomma sulla nostra sulla nostra cattedra si accende la fotocamera e tu vedi tutta la tua classe questo cuore che pulsa davanti ai tuoi occhi sì è veramente un effetto veramente emotivamente che ti trasporta emotivamente devo dire devo dire la verità però è molto semplice da utilizzare avete visto da utilizzare sì e questo quando i ragazzi hanno il visore in questo spazio centrale si riesce a vedere quello che loro stanno vedendo in quel momento quindi lo vede l'insegnante per monitorare ma lo vedono anche gli altri alunni che non stanno facendo un'esperienza immersiva ma stanno vedendo l'esperienza immersiva dei compagni e abbiamo visto ecco con l'eduverso che possiamo coinvolgere tutti anche con pochi con pochi visori che altro vogliamo dire Lucia di entusiasmante di class VR di novità sicuramente che ci sono tante altre novità ma che sono in arrivo ok questo è il momento di mordermi la lingua io ti faccio una domanda che tanto non mi rispondi ma l'intelligenza artificiale in class VR arriverà bocche cucite però vuol dire che ci fa perare vuol dire che ci sarà che ci sarà facciamo un'altra puntata Lucia sull'intelligenza artificiale in class VR e sulle altre novità io un altro caffè lo prendo molto volentieri con voi benissimo 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 però prima di chiudere brava ma questi visori li possono usare veramente tutti che bella domanda che mi hai fatto che bella domanda che mi hai fatto beh allora come la strutturiamo questa risposta perché è una domanda molto insomma sì sì nessuno può dire il contrario è un argomento sicuramente importante da affrontare diciamo che mi baso su quella che è la nostra esperienza mettiamola così intanto perché viene da dove viene questa domanda perché so che insomma nell'ambiente si è sentito parlare molto di un al di sopra dei 13 anni al di sopra dei 13 anni quindi questo andava ad escludere tutta la fascia al di sotto dei 13 anni rispondo per chi non è ovviamente non è pratico di queste di queste cose quindi vado su un tecnicismo tutte le case produttrici prima di mettere sul mercato qualcosa devono passare dei test e questi test consentono a quelle case produttrici di garantire una certa serie di norme sulla sicurezza quindi si basa su quello sui risultati ma su tante altre variabili anche su i contesti d'uso quindi qual è l'obiettivo dove deve essere utilizzato quello specifico strumento non sto parlando esclusivamente della realtà virtuale parlo di tutti gli strumenti tecnologici tutti quelli che abbiamo in classe qualunque dispositivo che abbiamo in classe ha passato dei test per cui diciamo che una una grandissima fetta di produttori di realtà virtuale ha questa necessità proprio di comunicare che al di sotto dei 13 anni questo strumento il loro strumento non può essere utilizzato è fortemente sconsigliato ora parlo per la mia di casa produttrice quindi parlo per Avantis e quindi parlo di Class VR Class VR vi confermo che può essere utilizzato non solo può è utilizzato per tutte le fasce d'età che sono all'interno di quel percorso meraviglioso che è quello scolastico per cui partiamo dai 6 anni 5 anni 6 anni ovviamente dipende da che quale età non si ha nel momento in cui si inizia io ho iniziato 5 anni e mezzo ad esempio quindi ero ero un po' anticipataria però ero all'interno di quella fascia la cosa che quindi dalla prima elementare in su esatto dalla prima elementare in su non parliamo della scuola dell'infanzia perché ovviamente la scuola dell'infanzia ha una serie di caratteristiche e parlo della scuola italiana quindi della scuola dell'infanzia in Italia che sono di un certo tipo per cui al momento non c'è una forte richiesta ecco da parte della scuola dell'infanzia perché deve fare una serie di percorsi ancora per potersi adeguare a determinati standard quindi di sicuro parliamo della fascia d'età che va dai sei anni in su quindi scuola primaria in su perfetto assolutamente anche perché abbiamo visto tutte queste belle cose della scuola primaria non possiamo non utilizzarle ovviamente esattamente e tra le cose abbiamo abbiamo una grandissimo ecco riscontro abbiamo avuto un ottimo riscontro proprio dalle scuole primarie insomma perché i bambini hanno potuto guardare con i loro occhi ambienti assolutamente lontani dalla loro esperienza pratica ecco reale e che tanto invece li hanno fatti fantasticare sognare guardando semplicemente dei libri e poi trovandoci all'interno ovviamente tutto diverso è tutto diverso e soprattutto perché vai a coinvolgere come abbiamo detto le emotività le emozioni e quindi riesce ad aprire quella porta dell'apprendimento con molta più facilità e quindi sicuramente come detto te non se lo dimenticano no non se lo dimenticano ma l'emozione fa parte questo ovviamente lo sappiamo tutti tutti i docenti che lavorano fanno questo bellissimo mestiere che è una vocazione tra le altre cose questa professione sanno benissimo che il ruolo delle emozioni è fondamentale non si può non considerare le emozioni nel processo di apprendimento non lo diciamo noi lo dice la storia della pedagogia la letteratura della pedagogia quindi non possiamo negarlo noi ripetiamo soltanto quello che è stato veramente scientificamente provato insomma esatto benissimo allora io adesso chiuso Class of Wear come strumento ho un paio di domande da fare a Lucia proprio per il suo ruolo di country manager italiana che è iniziato da poco da pochissimo e so che hai già tante idee da portare avanti vuoi raccontarci qualcosa quale sarà il tuo programma come country manager di Class of Wear beh senza dubbio uno degli obiettivi che ho è quello di continuare perché è una cosa che ho fatto già prima insomma prima di ricoprire questo ruolo di continuare a cercare la qualità nelle proposte di realtà virtuale aumentate in mista per le scuole quindi questo è ci stiamo sentendo molto bene Lucia grazie quindi questo devo dire che insieme a Class of Wear sono molto orgogliosa di far parte di questa di questa realtà perché mi dispiace non potervene portare un po' ecco da Londra quindi dall'Inghilterra ma è una realtà che proprio dalla quale trapela tutta la la voglia di di portare innovazione nel vero senso della parola ma con una fattibilità nel senso con considerando anche l'efficacia che possa avere quindi questo è uno dei miei obiettivi sicuramente un altro degli aspetti che mi piacerebbe insomma affrontare spero di poterlo fare molto presto visto che Marilena tu sei un ambassador è proprio portare avanti questo programma con un diciamo un aspetto un taglio diverso un taglio proattivo un taglio un taglio che possa davvero mettere in luce le vostre esperienze in qualità di docenti perché non dimentichiamo che siete docenti e quindi quello che mi piacerebbe fare è proprio dare voce a voi il prima possibile bene bene questo ci piace ci piace perché ci piace raccontare class VR come hai visto e quindi insomma saremo al tuo fianco quando vorrai ci saremo e poi soprattutto la prima parte voler dare qualità nelle scuole quindi non soltanto la tecnologia non soltanto software e hardware ma qualità didattica ecco questo mi è piaciuto tanto proprio perché non è uno strumento fino a se stesso è uno strumento che ha un percorso un processo su un'idea didattica alle spalle che aiuta e supporta noi docenti quindi è un altro aspetto da sottolineare di class VR quindi il lavoro che avete fatto come ha detto Adele è riuscito alla grande quindi sicuramente nell'implementazione che farete sarà sicuramente migliorativa è senz'altro nella nostra lista è senz'altro nella nostra lista sì sicuramente bene Lucia allora noi oggi abbiamo raccontato già tante cosine nuove altre so che ne hai tante ancora da raccontare ci diamo appuntamento ad un'altra chiacchiera dal prof quando potrei dire sempre in anteprima visto ci siamo insomma abbiamo preso gusto di questa anteprima sempre in anteprima quando ci vorrei raccontare ulteriori novità di class VR noi siamo contenti di ospitarti e anche orgogliosi insomma di fare questa chiacchiera tra amiche grazie mille è stato un vero piacere e senza altro il prossimo caffè lo prendiamo di sicuro non solo in anteprima non solo per le anteprima ma per le esclusive occhio perché è esclusiva oltre che anteprima dall'anteprima passare all'esclusiva è fantastico benissimo poi Lucia ci vorrà un caffè vero quindi poi ce lo prendiamo quanto prima quanto prima quanto prima ci dobbiamo ci incontreremo grazie Lucia Adele ringraziamo i nostri i nostri amici a proposito di caffè Adele tu oggi ti sei dimenticata una cosa ho dimenticato tutti i banner Marilena Lucia Adele diciamo qual è che si ricorda dei banner dei nostri canali Telegram del nostro canale adesso c'è Telegram poi mettiamo il canale Whatsapp poi mettiamo che poi li trovate anche tutti in descrizione c'è la mail per partecipare alle nostre chiacchiere tra prof per indicare quelle che sono buone pratiche didattiche per condividere un po' quello che più vi piace più che vi sta entusiasmando quindi un'app che vi siete portati a casa dalle nostre chiacchiere l'avete fatta vostra in classe poi c'è la possibilità di uscirci un caffettino per avere un po' di caffeina lo dicevo da prima lo dicevo da prima il caffè il caffè ho parlato già due tre volte di caffè di caffè ecco buymeacoffee.com per chiacchiere tra prof quindi il caffè arriverà Lucia arriverà e berremo il caffè grazie mille Lucia grazie a voi grazie grazie mille a presto ciao 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 Grazie a tutti.